Oggi vi parlo di prelibatezze dal mondo dell'arte e mi riferisco alle praline di Sergio e Tantao Mandelli. Nelle loro veste di divulgatori d'arte hanno identificato negli anni artisti contemporanei, storici ed emergenti che dal loro personale punto di vista hanno qualcosa da dire e qualcosa da lasciare nella storia dell'arte. Io ho il privilegio di avere una pralina dedicata a me e alla mia ricerca artistica. Sono in compagnia di artisti stratosferici del livello di Marina Abramovic, Agostino Bonalumi, Ugo Nespolo, Maurizio Galimberti e tantissimi altri. Quindi il mio invito è andare a guardare le praline, la mia, fatemi sapere che cosa ne pensate e godetevela perché le praline sono davvero prelibatezze dal mondo dell'arte. Pier Paolo Perretta, nato a Como il 12 agosto 1972 sotto il segno del leone.